Mi chiamo Monica Zang, Claudia Vento, Davide Ranaldi, sono Francesca Di Molfetta, Giacomo Corbetta, Massimo Urban, Mattias Nessorquevas, Maximilian Trebo, Riccardo Zangirolami, Singh Andrea Molteni Piano France è un'associazione che si occupa di giovani talenti, di giovani pianisti che si divertono insieme, che sono molto appassionati al pianoforte e che hanno il grande onore di poter studiare con il maestro Balzani Promuove i ragazzi giovani a livello internazionale C'è molte opportunità di suonare, di farti conoscere Come suonare con l'orchestra, esibirsi all'estero e in varie parti d'Italia Per me è un gruppo di amici che amano suonare Lì ho imparato a studiare con più metodo Grazie alla professionalità del maestro Vincenzo Balzani di Cate Iglesias Poco a poco mi hanno coinvolto Un clima molto sereno e di simboli reciproci Oltre che farti crescere sia come persona sia come musicista Mi fa instaurare amicizie di persone che suonano il mio stesso strumento e mi fa fare la cosa che mi piace fare in assoluto, cioè suonare il pianoforte Sono i miei amici stretti È come una seconda famiglia Una grande famiglia Un clima appunto familiare Sono molto contento di farne parte Ciao Mi chiamo Monica Zang Claudia Vento Davide Ranaldi Sono Francesca Di Molfetta Giacomo Corbetta Massimo Urban Mattias Nessor Quevas Maximilian Trebo Riccardo Zangirolami Singh Chang Andrea Molteni Piano France è un'associazione che si occupa di giovani talenti, di giovani pianisti Che si divertono insieme, che sono molto appassionati al pianoforte e che hanno il grande onore di poter studiare col maestro Balzani Promuove i ragazzi giovani a livello internazionale Ci ha molte, diciamo, opportunità di suonare, di farti conoscere Come suonare con l'orchestra, esibirsi all'estero e in varie parti d'Italia Per me è un gruppo di amici che amano suonare Lì ho imparato a studiare con più metodo Grazie alla professionalità del maestro Vincenzo Balzani di Katia Iglesias Poco a poco mi hanno coinvolto Un clima molto sereno e di simboli reciproci Oltre che farti crescere, diciamo, sia come persona, sia, diciamo, come musicista Mi fa instaurare amicizie di persone che suonano il mio stesso strumento e mi fa fare la cosa che mi piace fare in assoluto, cioè suonare pianoforte Sono i miei amici stretti È come una seconda famiglia Una grande famiglia Un clima, appunto, familiare E sono molto contenta di farne parte Ciao